Benvenuti al Centro Culturale Lunghiano Temenos. Io sono Andrea Graggia e ci troviamo oggi per continuare il nostro viaggio all'interno dei miti e dei loro protagonisti, sia umani che eroici. Il tentativo sarebbe quello di andare a vedere se questi racconti che risalgono all'antichità possono ancora dirci qualcosa sulla società attuale, contemporanea. Oggi ho l'onore, davvero sono molto emozionato nel presentarlo, di ospitare il dottor Claudio Wittmann, psicoterapeuta, analista junghiano di Ravenna, docente presso svariate scuole di specializzazione in psicoterapia, autore di numerosi saggi, volumi e articoli scientifici. Oggi il dottor Wittmann ci parlerà di un mito che è forse tra quelli più conosciuti, che tutti grosso modo conosciamo o crediamo di conoscere. Stiamo parlando del mito di Edipo. Mi vengono in mente alcune, giusto per così cominciare ad introdurci in questo mito, mi vengono in mente alcune definizioni, alcune descrizioni che di Edipo fanno alcuni autori. Mi viene in mente ad esempio Roberto Calasso, che nelle nozze di casmo e armonia descrive Edipo come il più infelice e il più inerme tra gli eroi, ma nello stesso tempo anche colui che fa un passo oltre, al di là degli eroi. L'eroe che per primo pensa di fare a meno, diciamo, del contatto diretto fisico con il mostro e che quando si trova di fronte al mostro personificato dalla sfinge, la guarda, gli parla, usa lo strumento della parola. E questa è una novità nell'ambito degli eroi. Mi viene in mente quanto dice Chereni, che lo definisce come il più saggio e il più stolto dei re. Il più saggio perché comunque risolvette l'enigma posto dalla sfinge, ma anche il più stolto, perché forse non ha realmente compreso quello che era il mistero, il mistero dell'uomo, che era il destino fatale a cui l'uomo va incontro, destino a cui Edipo è andato incontro, nel tentativo di evitarlo dopo quella famosa profezia dell'oracolo in cui si diceva che lui avrebbe ucciso il padre e si sarebbe unito con la madre, Edipo fugge ma finisce proprio per incontrare il padre, ovviamente non sapendo che si tratta del padre, e lo uccide e finirà davvero per unirsi con la madre, in maniera inconsapevole perché non sa che si tratta della madre. Credo che sia molto significativa quell'affermazione che fa sempre Chereni, che trovo molto arguta, e cioè che per paura di ciò che è terribile spesso l'uomo incontra proprio ciò che è terribile. Mi taccio perché forse ho parlato già anche troppo e lascio la parola a lei, dottor Wittman, le chiederei di parlarci un po' delle sue riflessioni su questo mito, provando anche a vedere appunto, come dicevo all'inizio di questo incontro, se possa dirci qualcosa questo racconto sull'uomo contemporaneo, sulla società attuale. Buonasera. È stato detto, e a mio avviso non senza ragione, che dopo 2500-3000 anni il mito di Edipo ha fatto ritorno per porsi come il mito fondante della psicoanalisi. In effetti, se noi pensiamo al fatto che nelle opere di Freud la parola, il termine Edipo ricorre oltre 250 volte, nelle opere di Jung un po' meno, ma non in maniera meno importante e significativa, possiamo davvero dire che il mito di Edipo è il mito della psicoanalisi, il mito per antonomasia. Ora, il mito di Edipo, la versione psicoanalitica del mito di Edipo, potrebbe riassumersi fondamentalmente in due versi. Il primo verso è quello dell'oracolo, le voci un po' confuse, orocolari, che giungono ad Edipo, il quale dice, pare che, stando a queste voci, io mi giaccerei con mia madre e di mio padre diverrei l'assassino. In effetti è esattamente quello che ha citato lei nell'introduzione. Da questo punto di vista, il mito di Edipo è il mito dell'incesto, in qualche maniera. E l'altro verso è quello di Giocasta, la mamma di Edipo, madre e moglie a questo punto. la madre di Edipo che, poco prima della sua tragica fine, dice quasi a rassicurare il figlio e quasi a normalizzare questo figlio chi dei mortali, in sogno, non è stato a letto con la propria madre. E questo mito dell'incesto dunque sembra essere una caratteristica universale, unghianamente, diremmo archetipica. Quindi qualcosa che riguarda un po' tutto. L'essenza dell'Edipo in effetti sembrerebbe condensarsi in questo, desiderare di sopprimere il padre per potersi congiungere eternamente e felicemente con la madre. Ecco, questo aspetto andrebbe a cadere dunque in un campo, nel campo incestuoso dell'inconscio archetipico. E sarebbe, in qualche maniera, una fattispecie di quel perverso polimorfo di cui parlava Freud, che non è il bambino. Basta che noi andiamo in internet e guardiamo un qualunque sito che propone che propone videoporno e guardiamo quanto diffuso e quanto stimolanti devono essere le fantasie di rapporto di figli con le madri, ma anche di figlie con la madre, nonché di figli con il padre e di figli con il padre. Siamo nel campo del perverso polimorfo che, ripeto, non è il bambino, ma è uno strato particolarmente profondo dell'inconscio. Per occuparci di questo strato, il mito di Oedipo, credo che valga la pena rievocarlo e collocarlo in una dimensione un po' più ampia di quello che si fa abitualmente. Intanto Oedipo è di Tebe e appartiene alla grande dinastia dei Tebani, che è di discendenza divina o semi divina. Il bis bis nonno di Oedipo era tale Kadmo che noi lo conosciamo non solo per il libro di Galasso che è stato citato prima, ma lo conosciamo proprio perché è il mitico, il caso di dirlo, Kadmo e armonia. Eroe assunto nei cieli, divinizzato, eccetera. Ecco, il proprio nipote di Kadmo è Oedipo. Ora, lungo questa discendenza, che non è nemmeno lunghissima, ci sale appena al bis bis nonno, sottolineo, si sono verificate parecchie e significative occorrenze che ci rimandano proprio nelle profondità dell'inconscio. È accaduto, per esempio, che il bis nonno di Oedipo, tale Labdaco, che doveva insediarsi molto presto, troppo presto perché aveva pochissimi anni, venne sostituito da un reggente. Tale Niteo, ma non ha una grande importanza per noi. Quello che ha importanza è che questo reggente venne cacciato per incesto con la propria figlia. Quindi il tema dell'incesto abita, l'abbiamo trovato, lo ritroviamo in quest'area psichica. Questo è il nonno, o il facente funzione del nonno. Il padre, come è più noto, si... Ora, Laio, un giorno, è ospite presso un re, un re vicino. è ospite di quel re, si invaghisce del figlio maschio del re, lo rapisce, lo violenta, si fa in qualche modo il capostipite, ma non il capostipite ammirato, il capostipite cengiurato che fa inorridire. L'idea è il capostipite della pedofilia. Andrà a finire che il ragazzino, Crisippo, si chiamava, si ucciderà per la vergogna. Quindi c'è un tema non solo di incesto, c'è un tema anche di violenza, c'è un tema anche di... c'è un tema di violenza sul minore, c'è un tema di infanticidio. e andrà a finire che il padre, il re che aveva ospitato Laio, lancerà su Laio la sua maledizione. La maledizione diceva che tu non abbia mai ad avere un figlio e se tu mai dovessi averlo, che quel figlio ti possa uccidere. Ecco perché Laio non poteva avere figli. Noi sappiamo, e questo fa parte, fa parte stringente del mito di Edipo, noi sappiamo che Laio accline a violare le leggi. Ha violato le leggi dell'ospitalità, ha violato le leggi del rispetto dei bambini, ha violato le leggi della vita, in qualche modo inducendo Crisippo ad uccidersi, violerà anche il divieto di Zeus che raccogliendo l'anatema del padre di Crisippo gli fece divieto di avere figli. E concepì nell'ebbrezza, come dice Sofocle. Lo sottolineo, nell'ebbrezza, in quel momento di straniamento e di inconscietà. E appena l'ebbrezza passò e appena la moglie risultò ingravida, risultò ingravidata, per sottrarsi alla maledizione di Zeus decise di esporre, di esporre Edipo. Esporlo, mandandolo, cioè abbandolandolo in una selva e per essere sicuro che Edipo non si sarebbe salvato. Li fece trafiggere entrambi i piedi. Edipo, da quel momento, Edipo è quello dai piedi trafitti, dai piedi feriti. Sappiamo anche come va a finire, perlomeno come prosegue. Nonostante gli accorgimenti di Laio, perché Edipo venisse esposto, perché fosse incapace di reggersi sui piedi, di provvedere, viene raccolto da un re pastore, un pastore che è anche re di Corinto, è Polivo, il quale non ha figli. E sarebbe anche da chiedersi perché non ha figli. Perché gli dèi li avevano vietato di avere figli. perché apparteneva alla dinastia dei Bacchidi, alla grande categoria dei Bacchiadi, che era una categoria di tiranni, dicono gli storici, dicono i mitografi, che erano soliti sposarsi fra di loro. Erano soliti praticare l'incesto in altre parole. E spero di riuscire a dare l'idea in questo modo che il tema dell'incesto, che il tema della commistione tra genitori e figli e il tema della violenza dei genitori sui figli è un tema che intride il sottotesto della narrazione di Edipo. Zeus pose a custodia e ad incubo di Tebe la sfinge. Zeus inorridito per i crimini di Laio, inorridito per il fatto che Laio non solo aveva violentato il ragazzino Cresippo, non solo aveva violato le leggi dell'ospitalità, non solo aveva impranto la sua legge di non mettere in cinta la moglie, ma aveva anche esposto il bambino e gli aveva traffetto i piedi, Zeus a monito dell'intera città pose la sfinge. Chiunque volesse entrare o uscire dalla città, non soltanto Edipo doveva confrontarsi con la parola, doveva vedersela con la sfinge, la quale, lo sappiamo, poneva una domanda, domanda arcinotta che ha attraversato i millenni, qual è quell'animale che cammina prima con quattro zampe, poi con due, poi con tre, e meno zampe ha, più veloce corre. Edipo un giorno di nuovo incontra l'ebbrezza, di nuovo incontra un avventore ubriaco in una taverna, in una mescita di vino, e lo sente fare delle ironie, delle battute sul fatto che lui non sarebbe stato il figlio di Polivo e di Merope, come lui credeva. Sente fare delle ironie che quelli che lui credeva, i suoi genitori, in realtà non sarebbero stati i suoi genitori. Gli interroga i genitori e loro smentiscono naturalmente. Allora Edipo va ad interrogare l'oracolo, il massimo oracolo, quello di Dello, l'Apollo Delfico. E' l'oracolo che avrebbe dovuto leggere Eraclito ed Ipo, perché Eraclito di quell'oracolo dice che non nasconde e non dice, ma manda segni. L'oracolo dice, e dice quello che abbiamo appena sentito, giacerai con tua madre, ucciderai tuo padre. Edipo se ne va via con questa risposta, non si interroga, se ne va con la risposta. E incontra un passaggio cruciale, incontra un passaggio determinante che è il Bibio. Se va da un lato, se ne torna verso Corinto, se va dall'altro, va verso Tebe. sceglie di non tornare a Corinto per non fare del male a quelli che lui ritiene i suoi genitori. Sceglie di espatriare, lui crede di espatriare, in realtà rimpatria e se ne ritorna a Tebe. Ed è lì che in quella, e lo si vede ancora, in quello stretto passo dove in due non ci passano, gli viene incontro un re. L'araldo del re dice scansati, fatti in là, fai passare il re. Ed Edipo, dovremmo parlare, parleremo dopo del carattere di Edipo, Edipo che è traccotante, che è strafottente, che è anche un violento di suo, non cede il passo. Forse è entrato lui per prima, noi diremmo che aveva un diritto di precedenza, l'altro aveva un diritto di autorità. Secondo altre versioni, il re lo colpisce, lo colpisce col pungolo dei cavalli e lo colpisce sui piedi già feriti. Ed Edipo non ci vede più, è il suo punto debole. Se potessimo giocare con le parole dei miti, i piedi gonfidi Edipo sono il suo tallone d'Achille. Va a finire che lui si ribella, va a finire che il re muore. E tutto trionfante Edipo si avvia verso Tebe, incontra la spinge ed è il primo ed è l'unico che risolve, che sa rispondere alla domanda della spinge. Io sottolineerei questa cosa, anche perché altre volte ho sostenuto e scritto che Edipo è davvero il signore della risposta. Sa ottenere la risposta dall'oracolo, sa dare risposta alla spinge, ha pochissima dimestichetta con la domanda. Ma lui è davvero il signore della risposta. E a me par di capirlo, a me par di conoscerlo Edipo, che ormai ha la risposta al suo enigma, ha il vaticinio che lui crede di aver capito. È convinto di essersi messo in salvo perché ha la scocorinto e se ne è andato all'estero. È riuscito addirittura a superare l'enigma della spinge. Ha avuto ragione di quello che voleva togliere il diritto di passaggio ed arriva trionfante dentro Tebbe. Mi par di vederlo, sicuro di sé. Tebbe è in festa, è morta la spinge e per celebrare l'evento non solo si festeggia, ma per celebrare l'evento all'eroe che ha sconfitto la spinge, i Tebani offrono in sposa la vedova regina, il più saggio, il più intelligente e il più stolto dei re, come per l'appunto ha sottolineato ha sottolineato Kereni. Gli offrono la corona e gli offrono la regina. Ecco, questo è il dramma dell'incesto. Da questo punto di vista il mito di Edipo è davvero il mito dell'incesto. Dell'incesto in quanto fattispecie di quel perverso polimorfo che riguarda anche la pedofilia, che riguarda la violenza sui minori, che riguarda ogni fattispecie. L'ho detto prima, basta che visitiamo qualche sito porno e vedremo che i rapporti incestuosi in qualche modo sfondano ogni limite delle fantasie quelle conscie per lo meno. Quello che noi abbiamo visto è che il tema dell'incesto esiste da prima di Edipo, da quando Nitreo ebbe compì incesto con la propria figlia, esiste la violenza sui minori da parte di Lau, contraevano matrimonio tra di loro Polivo e Merope e per questo era stato fatto di vieto a loro. Noi non sappiamo esattamente che rapporto di parentela ci fosse tra Polivo e Merope ma sappiamo che in quella dinastia i re si congiungevano con le figlie e per questo loro due era stato fatto di vieto di procreare. Siamo nel campo della sessualità o siamo nel campo della confusione? Proprio in senso letterale delle cose che si fondono l'uno con l'altro. Siamo nel campo di una sessualità perversa o siamo nel campo archetipico di una commistione fra pulsioni fra cosciente e non cosciente siamo in prossimità di quella che Jung chiamava la partecipazione mistake siamo in prossimità di quegli strati psichici dove i confini fra genitore e figlio fra bambino e madre fra madre e bambino fra interno ed esterno fra soggetto e mondo ancora non esistono. Ecco c'è anche l'ipotesi ed è un'ipotesi fortemente sostenuta dalla psicologia junghiana siamo anche siamo anche dinnanzi all'ipotesi che non si tratti soltanto di una vicenda sessuale che si tratti che si tratti di una relazione specifica all'interno della psiche dove le cose sono indistinte sono indifferenziate dove il soggetto vive la partecipazione mystique tra la propria individualità ancora non scorporata e la mamma ancora non distinta da e poi la famiglia e poi la tribù e poi il clan e poi la nazione in questa questa osmosi dove ciò che sono io facilmente si fonde si congiunge con ciò che è l'altro Edipo è il mito dell'incesto ma è anche ed è soprattutto il mito dell'endogamia è anche ed è soprattutto il mito della commistione e questo credo sia il primo elemento il primo mito che Edipo ci racconta se vogliamo no sì sì come come giustamente lei sottolineava prima appunto non stiamo parlando soltanto di una fase di sviluppo del bambino ma di un proprio una caratteristica di questo inconscio di questo inconscio primordiale sì approfitterei per fare una precisazione che molti mi hanno già sentito fare perché è una puntualizzazione che ritengo fondamentale la psicologia di impronta freudiana non soltanto quella freudiana è una psicologia tendenzialmente delle relazioni oggettuali cioè che risale a quelle che sono le relazioni fra il soggetto e l'oggetto dei propri investimenti affettivi la psicologia junghiana è una psicologia delle relazioni coscienziali cioè risale a quelli che sono i rapporti non trante il soggetto e le altre persone ma a quelli che sono i rapporti fra la coscienza e il sostrato della non coscienza ecco in questo senso il mito dell'incesto il campo archetipico dell'incesto e il campo archetipico dell'endogamia è il campo archetipico dove le componenti psichiche interne si coniugano tra di loro in maniera più o meno indifferenziata e più o meno indistinta ma il mito di Edipo è anche un altro mito è un mito della fatalità un mito del fatto se volete il mito di Edipo abbiamo visto inizia prima di Edipo e tra l'altro si continua anche dopo Edipo medesimo dovremmo parlare delle figliazioni di Edipo ovvero dei suoi figli dicevo introducendo questa riflessione che Edipo è il proprio nipote di Cadmo Cadmo è l'eroe mitologico il semidio poi divenuto dio per l'appunto assunto in cielo è il semidio che fonda Tebbe c'era stato tutto un insieme naturalmente di anticipazioni oracolari noi potremmo anche dire e tradurre un insieme di input archetipici e Cadmo per fondare la città nel luogo dove arriva fa dei riti propiziatori va ad attingere dell'acqua ad una fonte per questi riti ma la fonte è protetta da un drago ed è un drago molto particolare perché è l'animale di Ares Ares il bellicoso dio della guerra Cadmo eroe intemerato che non ha paura di niente nemmeno dei draghi uccide il drago da solo con le proprie mani e dai denti del drago morente che cadono per terra sorgono dei guerrieri e Cadmo non ha soltanto in qualche modo il coraggio anche l'astutia prende una manciata di pietra di pietre le tira fra i guerrieri i quali credendosi attaccati l'uno dall'altro si uccidono a vicenda ne sopravvivono soltanto cinque si chiameranno gli sparti cioè i sopravvissuti i risorti e saranno i primi abitanti di Tebe dovremo tenere conto di questo per sapere che fino alla fine fino a quell'edipo che abbiamo visto virulento nell'incontrare il re in quello stretto passo fra Tebe e Velfi dovremo tenere conto di questo per renderci conto che in Edipo scorre il sangue del drago Edipo è davvero uno spirito draconico è un discendente del drago è un discendente di Are dovremmo anche dire l'abbiamo accennato prima che il padre putativo quel polivo di cui abbiamo detto apparteneva alla dinastia dei Bacchiadi la quale dinastia era una dinastia di tiranni pare sia stato con loro e forse con loro che la parola tiranno che in origine significava semplicemente governante con bondiere o colui che conduce un paese prende quel significato sinistro e violento che possiede ancora oggi quando noi oggi parliamo di un tiranno non pensiamo semplicemente ad un capo di stato pensiamo per l'appunto ad un essere violento ed eccessivo e sadico e prepotente eccetera Edipo quindi vive in questo campo psichico si sottrae alla virulenza di laio quel laio che per l'appunto è non esita a esporre il figlio va da quello che è un buon padre è un re pastore è un buon uomo a lui era affezionatissimo ci dice il mito ma partiene ad una dinastia di tiranni Edipo cresce nel campo psichico della tirannide cresce nel campo psichico della violenza non soltanto delle pulsioni sessuali incestuose eccetera anche delle pulsioni aggressive noi del mito di Edipo ricordiamo quasi sempre che è un mito di parricidio va sottolineato che è anche un mito di infanticidio va sottolineato che laio prima di morire per mano di suo figlio ha disposto che suo figlio venisse ucciso per mano e per volontà sua andrebbe anche detto che c'è un'altra figura non non secondaria non gioca un grande ruolo nell'Edipo Re nella tragedia di Sofocle dell'Edipo Re ma gioca un ruolo molto particolare in un'altra tragedia di Sofocle che parla di Edipo e delle sue filiazioni e delle sue conseguenze è Creonte Creonte è lo zio è lo zio materno ed è quello che come in un'antica tradizione esercita funzioni tutelari nei confronti della prole della sorella quindi anche nelle funzioni di sorelle di Edipo è una sorta di altro padre in una qualche misura ecco Creonte ha un'altra caratteristica quello di essere dotato di una di una singolare parlantina quello di riuscire a rivestire con parole gradevoli le verità più aspre Creonte andrà a cercare Edipo quando gli interesserà riportarlo a Tebe e sarà come dire una retorica da venditore di spazzole da venditore di aspirapolvere quella di Creonte sarà una retorica a buon mercato ma sarà un signore della parola Edipo lo abbiamo visto sa interrogare l'oracolo sa prendere le risposte sa dare risposte alla sfinge alla corte di Tebe e si ritrova alla corte di un re della parola quale è Creonte Edipo sarà anche un signore della parola sarà un signore del raggiro con la parola il più saggio e il più stolto così abile nell'usare la parola da essere raggirato con le parole da essere abbagliato dalle parole allora io credo si possa osservare soprattutto dal punto di vista junghiano che siamo in un campo transgenerazionale evidente dove le caratteristiche simbolicamente incestuose dove le caratteristiche draconiche il sangue del drago dove in qualche modo l'idolatria della parola corre attraverso le generazioni e arriva fino ad Edipo quale fu quel daimon dice Edipo che col più lungo dei suoi lunghi balzi piombò sul mio sinistro destino quel demone che mi balzò addosso plasmando il mio destino avrebbe dovuto rileggerlo rileggere la saggezza molto più antica di Eraclito laddove Eraclito dice il carattere è il vostro primo destino il carattere di Edipo il suo carattere incestuoso il suo carattere impulsivo il suo carattere belligerante il suo carattere draconico questo è il suo primo destino noi è significativo che quando noi interroghiamo il destino interroghiamo le stelle un tempo lo si faceva d'abitudine ma adesso lo si fa ancora come sappiamo e nelle stelle c'è scritto sempre il carattere e il futuro crediamo siano due cose distinte ma Eraclito dice che sono la stessa cosa perché il carattere è il tuo fatto e allora allora lo comprendiamo allora comprendiamo che quando Edipo viene esposto in realtà non va incontro alla morte va incontro al suo destino quando viene salvato in realtà non viene salvato viene consegnato al disegno che gli che gli spetta allora comprendiamo che quando incontra quel momento di ebbrezza quell'ubriaco nella taverna che fa delle battutacce sul fatto che lui sia un figlio bastardo non incontra un momento di insulsaggine incontra la voce della verità quando incontra per l'appunto l'ebbrezza inconscia incontra incontra la verità allora comprendiamo che quando si trova al triados quel quel bivio dove da una parte può tornare a colono e crede di andare incontro alla perdizione e dall'altra può espatriare verso Tebe e crede di andare incontro alla salvezza lì in realtà lui sta andando fatalmente incontro al proprio destino comprendiamo che quando nella scista in quello stretto passo uccide quell'estraneo e quel viandante sta compiendo il suo destino e quando arriva a Tebe tutto esultante per aver sconfitto la sfinge contento per essersi sottratto al suo destino per non correre più il rischio di uccidere il proprio padre di giacere con la propria madre lì il suo destino il suo destino si compra noi sappiamo come va a finire sulla su Tebe si abbatte una nuova pestilenza è l'orrore degli dei per aver assistito a Edipo dove la sua inconscietà ha ucciso il padre e sta giacendo con la madre sì ci sono varianti del mito che esaltano la sua tracotanza che fanno di Edipo un razziatore di cavalli che quando viene scoperto abbatte il proprietario dei cavalli Laio che fanno di Edipo un uomo draconicamente truculento che non si accontenta di razziare i cavalli ma sotto gli occhi inermi di Laio che non sa essere suo padre li stupra la moglie Sofocle avvalla la versione che abbiamo portato fino a qui ed in quella versione Edipo non è soltanto uno stupratore di passaggio è davvero un individuo inconsapevole che nelle braccia della grande madre si rintana trova rifugio si adagia e lungamente endogamicamente procrea con lei gli dei gli dei non ridiscono vedremo quali dei quale spirito degli dei aperto la fine gli non ridiscono mandano pestilenza su Tebe a punizione di questa città ed Edipo finalmente comincia a fare domande comincia a chiedersi a interrogare nuovamente l'oracolo a chiedersi quale sia l'anatema che era stato lanciato per quale chi sia responsabile gli indizi si accavallano l'uno dopo l'altro e lui con la inflessibilità del drago con l'inflessibilità di Ares vuole andare fino in fondo fino a scoprire fino a scoprire che il responsabile di quella pestilenza è lui in quel momento anche anche Giocasta anche la madre la madre la moglie di Edipo rimane esterefatta non regge l'impatto e ci suicida Edipo e siamo dentro allo spirito veramente tragico veramente violento siamo proprio nel campo archetipico di Thanatos Edipo vede la moglie e madre suicida le salta addosso il tempo giusto per sentirla aspirare e per sottrargli gli spilloni che trattengono la veste e con gli spilloni più e più volte si colpisce gli occhi e si acceca destino significativo Edipo concepito nell'ebbrezza finisce almeno questa sua parte destinica nella cecità serve aggiungere altro per dire che Edipo è una personificazione di uno strato profondissimo dell'inconscio uno strato che non è raggiungibile dalla coscienza Edipo è la personificazione tragica di un'esistenza in cui l'inconscio imperversa imperversa e spadronezza e anche in qualche modo la dimostrazione Edipo che quando i contenuti dell'inconscio non sono raggiunti dalla coscienza ci si presentano come dall'esterno ci si presentano come delle fatalità gli capita di essere salvato da un pastore gli capita di essere esposto da un padre gli incapita di incontrare uno sconosciuto che lui non sa essere suo padre gli capita che gli venga offerto in dono e in omaggio la regina gli capita che quella regina sia sua madre tutto gli capita perché i contenuti dell'inconscio sono inaccessibili alla coscienza è una delle caratteristiche del destino e delle fatalità quando il destino assomma è un concetto che assomma in sé le caratteristiche soggettive dello stile personale il carattere come lo chiamava come lo chiamava Eraclito e in qualche modo il suo disegno il suo percorso di vita anche la sua mission esistenziale anche il che cosa uno ci sta a fare al mondo quando la coscienza non è minimamente in contatto con i contenuti del proprio inconscio questi contenuti si presentano come fatalità quando la coscienza riesce a stare almeno minimamente in contatto col proprio nucleo soggettivo con la propria missione esistenziale col senso del proprio stare al mondo allora quei contenuti sono il nostro destino nel senso che costituiscono anche e che ci rappresentano ci danno raffigurazione a quella che è la nostra destinazione ed è qui che a mio avviso il mito di Edipo è anche un altro mito è anche un mito della coscienza voglio dire che in quel in quel regno molto sotterraneo molto profondo dell'endogamia dove l'interno si confonde con l'esterno dove non c'è una distinzione tra me e l'altro tra il neonato e la mamma tra l'appartenente alla tribù e la propria individualità tra tribù e tribù e tribù consortile ecco in quella situazione lì la coscienza è un'emergenza uso intenzionalmente questo termine perché da un lato è un'emergenza nel senso che è un'urgenza è urgente trovare una coscienza che incanagli le forze draconiche che metta un freno all'aio che viola tutte le regole che incontra ma è anche un'emergenza nel senso che laddove l'inconscio impazza in questo modo emerge una funzione più cosciente ed emerge come coscienza morale sul piano endogamico sul piano interno e come ordinamento sociale sul piano esogamico cioè sul piano esterno sul piano della società e della civiltà è interessante la lettura che fa la lettura di tipo evemeristico del mito di Oedipo Evemero probabilmente lo sappiamo tutti era quel mitologo quel mitologo che rintracciava nei miti la trascrizione trasfigurata di eventi storici allora dal punto di vista evemeristico è stato ipotizzato ed è una lettura interessante che Kadmo che per inciso veniva dalle regioni del Nord Africa dove in civiltà molto più avanzate di quella greca a quel tempo come quella egizia era costume costume per esempio dei faraoni sposarsi fra di loro cioè l'incesto era non solo prerogativa ma era anche obbligo obbligo istituzionale l'incesto tra il re tra il faraone e la figlia era pras se i bacchidi i bacchidi fossero in qualche modo una derivazione di questo potrebbe potrebbero parlare polibo e mero di una di uno strato anche storico in cui era consuetudine nell'ordinamento sociale che i padri sposassero le figlie se i tebani sono dei discendenti di Kadmo potrebbe essere non infondato che nelle prime generazioni di tebani vigesse il costume che il re concepisse con la propria con la propria madre o con la propria figlia la seconda ecco in questo senso il mito di Edipo ad una lettura evemeristica parlerebbe del tramonto dell'eggigenza che questa consuetudine tramontasse e che si andasse affermando un altro ordinamento sociale l'ordinamento secondo cui non si sposa con le figlie non si concepisce con i genitori ma per l'appunto si instaura un regime più esogamico non faccio il sociologo non mi dilungherò non mi addentrerò in questo tipo di lettura mi sposterò invece sull'altro piano sul piano della lettura endogamica cioè di che cosa succede all'interno per dire che anche Freud tutto sommato non risolve la vicenda di Edipo nel solo ambito della sessualità Freud ha un pronunciamento chiave quello che dice sulle ceneri dell'Edipo nasce e prospera il superio intendo di intende dire Freud che dopo che il bambino ha desiderato fortissimamente eroticissimamente la mamma dopo che il bambino ha desiderato violentissimamente far fuori il padre il padre rivale ecco si fanno strada altre due esigenti primo l'ammirazione per il padre che comunque è più forte di lui che più di lui riesce a possedere la madre che più di lui è una una figura ideale e secondo il fatto che l'aggressività che originariamente era orientata verso il padre rivale viene deflessa e rivolta verso le proprie parti le proprie parti pulsionali lo dirò rapidissimamente ma c'è una scena anche qui a distanza di millenni una scena a mio avviso molto chiara e la ritroviamo proprio in Pinocchio all'inizio Pinocchio ancora un piccolo burattino ha un giorno di vita e c'è una voce genitoriale che gli dice basta Pinocchio non si fa così Pinocchio deve obbedire Pinocchio e Pinocchio prende un martello è la voce del grillo parlante lo sappiamo tutti prende un martello lo scaglia contro il grillo e lo spiaccica sulla parete passano molte vicende molti capitoli Pinocchio è diventato grande soprattutto è diventato più maturo sta cercando una ospitalità più che per sé per il vecchio Geppetto per suo padre e si ritrova dentro una casena chiede ospitalità al padrone al proprietario di quella casa ed è il grillo parlante il quale grillo parlante gli dice adesso vieni a chiedere ma non non mi trattavi così l'ultima volta che ci siamo visti e Pinocchio badate bene dice hai ragione grillino fai anche tu quello che io feci a te prendi anche tu un manico di martello e tiramelo addosso ma ospita mio padre la simmetria dell'aggressività che Pinocchio ha usato verso il grillo è invocata in maniera esattamente speculare come aggressività della voce esterna contro se stesso ecco questo in qualche modo è il meccanismo della proidiano della costruzione del superio della nascita della coscienza all'interno del bambino il rivolgimento dell'aggressività verso quella da quella che era la meta originaria del del persecutore dell'educatore esterno verso le parti pulsionali interne Freud ha una affermazione che andrebbe veramente scolpita sugli stipiti delle nostre porte il quale dice è chiaro a questo punto che non si introietta quello che il padre ci dice si introietta quello che il padre è e da questo punto di vista non c'è dubbio che la coscienza morale viene costruita sul modello non di quello che il padre e tutti gli educatori sono ma sul modello di quello che i modelli esterni vengono introiettati a seconda di come le figure esterne vengono introiettate noi ci costruiamo e allora un po' di conti ci tornano laio non era un modello di coscienza morale era un modello di stupratore era un modello di infanticida era un modello draconico col sangue di drago di violenza ci viene anche da chiederci che padre è per i suoi figli e ritroviamo e ritroviamo lo sviluppo coerente di quello che dice Freud i figli introiettano il modello introiettano non quello che Edipo ha detto loro introiettano quello che Edipo è Edipo ha quattro figli due sono figlie finiranno col vivere per sempre fino all'ultimo giorno all'ombra dei padri all'ombra del padre noi diremmo vivranno un irrisolto complesso edipico non perché ci vanno a letto non perché consumano perché vivono all'ombra del padre perché è un'esistenza endogamica perché non riescono nessuna delle due a fare una propria strada i figli sui figli cade il peggio della draconicità di Edipo Edipo già cieco in due occasioni in cui subì dei presunti sgarbi da parte dei figli la prima volta maledisse il primo genito dicendogli che tu non possa mai godere della mia eredità la sua eredità era il regno equivaleva a dire che tu non possa mai diventare re al posto mio la seconda volta che i figli sacrificarono gli dei e per una dimenticanza o misero di di dargli la porzione che aspettava al re maledisse entrambi dicendo che voi scendiate insieme all'ade dopo esservi uccisi l'un l'altro andrà a finire così allora voi capite noi capiamo che in questi strati dell'inconscio la nascita della coscienza è una emergenza è urgente ed è necessario che affiori una parte della psiche che sia che sia consapevole e che abbia e che sia anche una coscienza morale che abbia dei criteri morali non saranno i figli a fare questi i figli useranno l'aggressività contro di loro non la rivolgeranno contro le parti draconiane né contro le parti drago e pulsionali di loro stesse ma le figlie saranno tutte e due dei modelli di coscienza morale le figlie sono Ismene e Antigone di solito viene citata Antigone come quella che personifica una coscienza ma io vorrei sottolineare che sono due aspetti complementari certo molto diversi Ismene è una coscienza conformista anticipo riassumo quella che è l'evoluzione di Edipo Edipo questo vecchio cieco espulso da Tebe è assolutamente impotente di suo i suoi occhi sono Antigone è la figlia devota che lo accompagna che sceglie la via dell'esilio con il padre Ismene rimane nella città rimane a Tebe si assoggetta a tutti i vari decreti decreti di Creonte lo zio materno che prende la regenza della città va a finire come dicevo che i figli lottano fra di loro per avere la supremazia di Tebe lottano e si imbrogliano e in questa lotta si uccidono l'uno con l'altro era andato a finire che Creonte scusatemi che uno dei figli aveva il aveva assunto la regenza di Tebe si erano accordati perché dopo due anni la passasse la passasse all'altro figlio cosa che ovviamente non si segnò di fare una volta avuto il potere lo tenne allora l'altro figlio quello che aveva il primo genito che aveva diritto al trono ma su di lui gravava la maledizione che non avrebbe mai beneficiato dell'eredità di Edipo andò raccogliere sette degli eroi più valorosi e mosse guerra contro Tebe i sette contro Tebe molto noti in mitologia e mosse guerra contro Tebe per riappropriarsi del trono davanti alle porte di Tebe lui si battè con il fratello si uccisero si colpirono contemporaneamente si uccisero a vicenda e Creonte lo zio reggente stabilì che al re in carica e Teocle fossero garantiti i riti funedi ma che a Polinice quello che aveva fatto guerra a Tebe non fossero tributati i riti funebri ora noi dobbiamo sapere per i pochi che non lo avessero presente che avere i riti funebri a Tebe era essenziale e nell'antica Grecia ne andava molto più che della nostra vita ne andava della vita eterna ne andava della tranquillità nei campi Elisi ne andava della possibilità di avere quell'esistenza pallida ma comunque quell'esistenza nell'Ade chi non aveva chi non riceveva sepoltura non aveva neanche speranza di questo era era davvero la seconda morte la più terribile delle morti ecco Polinice non può godere dei riti funebri perché ha mosso guerra contro Tebe e poco importa voi lo sapete come funzionano i decreti risentite tutte le settimane i decreti lei mi chiedeva cosa c'entra Edipo con noi ma noi siamo Edipo noi viviamo di coscienza e di inconscienza esattamente come Edipo concepiti nell'ebrezza e viventi nella cecità ecco poco importa se se Polinice andava a riconquistare un trono che era suo lui aveva mosso guerra la città ed è creonte non voleva che lui venisse ufficiato come Salmo le due sorelle hanno due posizioni molto molto interessanti la prima Esmene dice ve lo leggo perché perché è interessante dice guarda la triste nostra fine se illegalmente trasgrediremo il decreto di Chirignan e il suo potere io per me dice Esmene oltre non andrò contro la legge oltre le proprie forze è cosa stolta andare ai potenti io obbedirò perché ardire andare contro i potenti è follia i potenti non sono solo i più forti sono quelli che stabiliscono la legge sono i decreti ufficiali Antigone dice quindi tu non mi segui dice no io per me dice non so agire contro la città ecco Esmene è una coscienza morale una coscienza morale un pochino grezza se volete ma molto fedele io per me contro la città non so andare è follia andare contro i decreti è una è una coscienza molto stereotipata è una coscienza la definivo e non so definirla meglio conformista è una coscienza subordinata è una coscienza morale poco consapevole non voglio sapere chi avesse torto chi avesse ragione so che non lo si può fare e non lo farò lì davanti al corpo del loro fratello si consuma un ennesimo bivio i bivi sono del mito di sono del mito di Edipo come sono i nostri bivi Ismene Ismene torna in città e Antigone di notte mentre mentre Tebe dorme Antigone copre di polvere da una sepoltura simbolica copre di polvere la salma viene scoperta viene viene condannata per questa Creonte la condannerà a morte e in una diatriba violentissima e interessantissima Antigone non si accontenterà di avere una coscienza morale lei ambirà ad avere una coscienza etica e la e la distinzione vi sarà subito chiara se pensate a Ismene e che vuole conformarsi ai mores e in questo ai costumi e in questo senso è morale Antigone viceversa in ingaggia con Creonte una diatriba e le dice i tuoi i tuoi decreti io stimai non avere tanta forza che tu mortale potessi superare e sopraffare dei nomi lealti non scritte inconcuse inviolabili leggi io non ho ritenuto che tu mortale potessi fare dei decreti che andassero queste che non di oggi e non di ieri ma da sempre furono e sono le leggi Antigone è la voce di una coscienza etica e non morale che riposa sui sui fondamenti archetipici noi non sappiamo che cosa è la giustizia ma sappiamo che c'è una giustizia sappiamo dentro di noi come diceva anche anche il Faust di Goethe dentro di noi lo sappiamo alla fin fine che cosa è bene e che cosa è male probabilmente sono categorie diverse per gli uni e per gli altri ma la categoria del bene e del male è archetipica ecco Ismene e Creonte scusatemi Ismene e Antigone sono le due cosciente sono due forme della coscienza perché da quell'impasto pulsionale c'è questa emergenza che è la coscienza ed è interessante è interessante che in Antigone non ci sia quel meccanismo edipico dell'aggressività rivoltata verso se stessa ad animare Antigone non è Canacos ad animare Antigone è l'Eros ad animare Antigone è l'affetto per il suo fratello è quell'affetto che gli aveva fatto dire l'ultima volta che lo vide gli parlò davvero vuoi fare questo davvero non pensi tu sai gli antemi che hai sulla testa cosa dice il fatto non pensi a quanto noi ti vogliamo bene no c'era il sangue del drago c'era il campo archetipico di Thanatos che animava i suoi fratelli ma lei viveva nel campo archetipico di Eros lei viveva come figlia edipica quanto vogliamo come figlia del padre affezionata al padre affezionata ai fratelli è Melania Klein che dice ci sono origini edipiche ed origini extra edipiche del superio noi lo possiamo dire con linguaggi più familiari la nostra coscienza si alimenta sia della forza di Thanatos della virulenza del drago rivolta contro le nostre spinte pulsionali ma si alimenta anche delle forze di Eros l'aveva detto non soltanto Melania Klein l'aveva detto anche Marie-Louise von Franz quando parlava e auspicava una coscienza etica fondata sul sentimento ecco Edipo parla di tutto questo ma approda a questo ad una coscienza etica fondata sul sentimento grazie grazie dottor Wittmann credo che ci sia ci sia ben poco da aggiungere credo che quell'affermazione che lei ha fatto poco fa dicendo noi siamo Edipo credo che poi ognuno possa fare tesoro appunto di queste riflessioni che le ha portato per poi fare a propria volta delle riflessioni su di sé sulla propria vita su propri momenti esistenziali così come sul mondo sul mondo in cui viviamo io la la ringrazio ancora davvero per questo questo importante contributo e la saluto e saluto tutti e ringrazio tutti per l'ascolto e ci ci rivedremo in un in un nuovo appuntamento di queste pillole archetipiche arrivederci arrivederci a lei grazie grazie a lei Grazie a tutti